Cristian Gallella e Tara Gabrieletto potrebbero avere avuto un riavvicinamento. Scendendo nel dettaglio, nelle ultime ore sono comparsi alcuni indizi sui social che lascerebbero ben sperare. In particolare, l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha sfoggiato, su Instagram, un bracciale con il nome del marito. Al momento, la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Cristian ha conosciuto Tara grazie al programma condotto da Maria De Filippi, lui era un tronista mentre lei una corteggiatrice. I due dopo essere usciti insieme da uomini e donne, avevano messo alla prova il loro amore a Temptation Island. A quanto pare, la prova era stata superata alla grande, visto che la coppia nel 2016 era convolata a nozze. Sebbene i due coniugi fossero diventati anche genitori, nel 2020 avevano annunciato la rottura. Da qualche settimana a questa parte, però, si parla di un ritorno di fiamma. Nella giornata di venerdì 6 agosto. Su Instagram, Tara ha alimentato le voci, la giovane ha postato uno scatto in cui ha sfoggiato un bracciale con il nome del marito Cristian. Non è chiaro perché l'ex corteggiatrice abbia deciso di indossare un gioiello con il nome dell'ex marito se tra i due non vi è alcun ritorno di fiamma. Al momento Cristian e Tara hanno preferito non commentare i rumor sull'avvicinamento. La stessa Gabrieletto in un'intervista ha rivelato di essere impegnata con il suo lavoro e di non avere molto tempo per l'amore. Non è escluso che la diretta interessata abbia deciso di tutelare la storia d'amore con Gallella per capire se c'è un futuro o meno tra i due. A parlare di un presunto ritorno di fiamma tra i coniugi, ci ha pensato anche l'espero di gossip Alessandro Rosica. Su Instagram, il diretto interessato ha condiviso lo scatto postato da Tara Gabrieletto. Rosica ha chiusato, intanto i fan della coppia sognano. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver partecipato ad alcuni programmi televisivi come Temptation Island e l'isola dei famosi hanno deciso di allontanarsi dai riflettori. L'ex tronista romano ha aperto una catena di bar e ristoranti a Roma mentre l'ex corteggiatrice è in procinto di aprire un negozio di toilettatura per cani e gatti nella capitale. Nel frattempo, Gabrieletto è anche diventata una nota e affermata influencer. Dopo l'annuncio della rottura con Cristian Gallella, Tara Gabrieletto aveva dichiarato di volere rimanere in ottimi rapporti con lui e di continuare a gestire insieme alcuni affari lavorativi.